Siamo tornati, continua la nostra mattinata da vivere insieme e ora vogliamo ricordare un uomo, un grande uomo che era un vescovo, il vescovo degli ultimi, Don Tonino Bello ed è proprio due anni fa che veniva dichiarata la sua venerabilità. E allora Giacomo, vogliamo parlare con un amico anche della nostra trasmissione, ma di tutta TV2000, Don Gaetano Crovascia, qui diamo il buongiorno e il benvenuto nel nostro studio. Ciao Giacomo, benvenuto a San Pietro, a Bisceglie. Ed è oggi un'occasione appunto i due anni da quando sono state dichiarate le virtù eroiche di Don Tonino, ma ogni occasione è buona per ricordare un uomo di spessore come lo è stato lui, non solo per la sua amatissima Puglia, ma per tutti quanti. E infatti potremmo dire che Don Tonino è stato un uomo, un sacerdote, un vescovo che ha insegnato, ma nel senso proprio etimologico, storico del termine, nel senso che ha lasciato il segno. Ha lasciato il segno non soltanto nelle grandi occasioni, nelle grandi celebrazioni o nei grandi proclami che comunque lui ha fatto, ma soprattutto nella vita particolare, semplice, di tutte le persone che lo hanno incontrato. Tanto i fedeli della diocesi di Molfetta, tanto quanto le signore che lui incrociava nella sua città di Alessano. Tutti raccontano dell'amabilità di quest'uomo e del suo bellissimo sorriso. E di fatti quel sorriso lui lo ha incarnato quotidianamente e attraverso quel sorriso lui ha testimoniato, ha raccontato la bellezza della parola di Dio. Per questo è stato veramente un uomo che ha insegnato, ha lasciato il segno nel cuore, il segno di Cristo ha lasciato. Don Ghetano, una persona come dicevi tu, carismatica. Tu sei pugliese come lui, sei più piccolo, però non l'hai conosciuto direttamente, ma sei cresciuto sentendone parlare. Assolutamente, i racconti delle tante persone che hanno raccontato della bellezza di quest'uomo, bellezza veramente a 360 gradi. Una bellezza che parte dalla sua città del Salento, Alessano, e siamo proprio vicinissimi a Santa Maria di Leuca, quasi alla punta dell'Italia, in quel luogo che è quasi un ponte, come direbbe Papa Francesco verso l'Oriente, o come anche Don Tonino insegnava. La Puglia è quasi un ponte che arriva fino alle terre orientali. E lì, dalla sua città di Alessano, vive sin da subito i drammi della guerra, perché da ragazzino perderà subito prima il padre e poi i due suoi fratelli maggiori, morti di fatti sul fronte. E dall'inizio lui scopre la tragicità della guerra, quanto sia brutta questa esperienza. E sicuramente questo dato umano che lui sin da piccolo si porta lo caratterizzerà. E di fatti poi leggiamo da grande il suo grande impegno per la pace. Ma la sua storia continua perché poi entra nel seminario giugento, che è la sua diocesi, e poi va a Molfetta, al seminario regionale, per gli studi liceali. A questo punto poi un altro momento interessante della sua vita è quando viene inviato a Bologna per gli studi teologici. E lui va in un seminario particolare, il seminario chiamato Ornago, dove si veniva formati per i lavoratori, per la vicinanza proprio agli ambienti lavorativi. E lì sicuramente, Don Tonino, acquista anche questa propensione, questa attenzione a tutte le problematiche che la società ci porta quotidianamente davanti agli occhi. Sottolineo questo per dire che tutta la sua storia alla fine costruisce l'uomo straordinario che è stato Don Tonino. Tutto il suo vissuto alla fine ha contribuito a realizzare quelle parole poetiche che lui riusciva a proferire. Parole che toccavano, o come dicevo prima, che insegnavano veramente nel profondo del cuore. E poi arriva la sua esperienza, dopo l'ordinazione sacerdotale, come formatore, perché lui diventa rettore del seminario della sua diocesi di Ugento. Per lunghi anni fa questo servizio. Però molto interessanti sono le testimonianze che sono state raccolte proprio nella sua causa di beatificazione, raccolte proprio dalle signore di Alessano, di Ugento, quando lo incontravano quotidianamente. E lui si fermava con loro per le strade a discorrere amabilmente. E attraverso queste discussioni molto semplici portava sempre una parola di conforto, una parola di Vangelo. Per dire che prima del grande vescovo c'è stato il santo sacerdote, questo non lo dobbiamo dimenticare. E poi è diventato parroco, lo è stato per alcuni anni, e poi finalmente è diventato vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Nominiamo per completezza il nome intero di quella bella chiesa. E nel diventare vescovo ha continuato naturalmente ad attuare quel criterio di prossimità che aveva già elaborato nel corso della sua vita, prima di essere sacerdote e anche da sacerdote, e il fatto di diventare vescovo lo rese ancora di più, forse, incline a questo. E infatti una delle sue espressioni che tutti ricordiamo è quella proprio di stola e grembiule. E stola è l'abito sacerdotale per eccellenza, è quel drappo di stoffa che il sacerdote indossa. E lui in una famosa omelia disse che in realtà il Signore Gesù, come unico paramento sacro, ha indossato il grembiule. Il grembiule dell'ultima cena, quello che ha permesso a Gesù di stare in ginocchio davanti ai suoi discepoli. Il grembiule che è stato utilizzato da Gesù per asciugare i piedi dei suoi discepoli. E sottolineava Don Tonino, questo è stato l'unico indumento, abito liturgico che il Signore Gesù ha utilizzato. E potremmo dire che il grembiule è stata proprio la cifra, potremmo dire, di tutto il suo ministero episcopale. Perché lui ha indossato proprio il grembiule per mettersi come vescovo, come pastore, a immagine di Gesù, per mettersi proprio al servizio di tutti. Tanto delle persone che frequentavano abitualmente le comunità parrocchiali, e tutti conservano ancora adesso un bel ricordo. Quanto i lavoratori che lottavano per i loro diritti, fu molto vicino per esempio ai lavoratori delle accellerie di Giovinazzo. Oppure l'attenzione molto forte che lui ebbe quando ci fu l'arrivo degli immigrati dall'Albania. Ricorderete le immagini dei barconi enormi che arrivarono al porto di Bari. E lui si adoperò diventando anche, potremmo dire, ispiratore di quel grande movimento di accoglienza che proprio all'inizio degli anni 90 coinvolse in maniera molto forte non solo la sua città di Molfetta, ma un po' tutta la Puglia. Infatti è proprio importante pensare questo, che lui parla di pace, pensiamo alla marcia per la pace di Sarajevo, era il 91. L'attenzione per i migranti, possiamo dire che lui anticipa, anticipa anche nei suoi messaggi, anche un po' quello che ci dice oggi Papa Francesco. E infatti è molto interessante, un po' tutti noi che siamo stati abituati a leggere i discorsi, le lettere di Don Tonino Bello. Io dico, chi non l'ha ancora fatto, legga le pagine di Don Tonino, perché sono veramente piacevoli da leggere. Lui aveva anche uno stile retorico, uno stile di scrittura veramente molto bello, un poeta diremmo. E quando si leggono le frasi, le parole, le omelie di Don Tonino pronunciate negli anni 80, è com'è leggere in anticipo il magistero del Papa, di Papa Francesco. È sorprendente quindi la profeticità di Don Tonino. Sì, io lo definirei proprio così, un profeta, perché i profeti sono quelli che vivono della parola di Dio e soprattutto la incarnano. E con questa parola di Dio sanno guardare oltre, sanno guardare lontano. Questo è stato Don Tonino Bello, un profeta dei nostri giorni, perché lui ha vissuto della parola di Dio e questa parola di Dio gli ha permesso di guardare lontano. Leggendo i suoi discorsi, ripeto, noi possiamo leggere le nostre situazioni di adesso. Il nostro 2024 trova coerenza con le parole proferite più di 25 anni fa proprio da Don Tonino Bello. E chiaramente tu parlavi dell'impegno della pace, che è stato straordinario. Lui tra l'altro fu nominato proprio come presidente di Pax Christi e ha vissuto questa in maniera molto forte, con grande coerenza, impegnandosi anche alla formazione di una rivista, Mosaico di Pace, che potesse affrontare le varie problematiche legate ai conflitti nelle varie zone del mondo. E lui si impegnò in prima persona. Tu parlavi della famosissima marcia che loro fecero a Sarajevo, ricorderemo questo conflitto molto cruento, e l'assedio che la città di Sarajevo visse in maniera molto dura, con grandi danni per la popolazione. Città che fu ripetutamente bombardata. Ebbene lui accolse questo invito di partecipare a questa marcia. Nonostante fosse già malato. Ahimè, era gravemente malato. Quella marcia era programmata proprio per l'8 dicembre del 1992. Arrivarono lì dopo un viaggio, potremmo dire, così tremendo per il Mediterraneo, che era attraverso l'Adriatico, e ci fu un viaggio molto burrascoso. E arrivarono finalmente lì, e fecero questa marcia. E la sfida era proprio questa. Dire che la guerra può finire. E soprattutto può finire con la non violenza. Non con l'utilizzo delle armi, ma con il dialogo. Questa era la sfida che lui voleva porre agli occhi del mondo. E grazie al loro passaggio silenzioso attraverso quella città martoriata, loro proprio proferirono gesti di pace. E nel cinema di Sarajevo, dove Don Tonino tenne un discorso, lui parlava proprio di questo, dell'utopia della pace, che diventa realtà. E lui diceva, se noi non sappiamo sognare, se noi non portiamo quest'utopia, le nostre comunità si spengono. Questo cercava di fare, Don Tonino. Cercava di portare la fiamma dello Spirito Santo all'interno delle comunità. In quel vivere totalmente aderente al Vangelo, aveva una grande compagnia, che era quella di Maria. Allora noi vogliamo portarvi in questo viaggio nel santuario della Madonna dei Martiri, a Molfetta, dove ancora c'è grande traccia, non solo appunto di Don Tonino Bello, ma del suo grandissimo amore per la Madonna. Partiamo. Don Tonino era un innamorato della Vergine Santa. E proprio mettendosi in comunione con la Beata Vergine Maria, che lui ritrovò la bellezza di questa donna, che viveva la ferialità della vita. La Madonna viveva una vita terrena, con le sollecitudini familiari e immersa nel lavoro. Don Tonino era un innamorato della Vergine Santa e prediligeva in modo particolare questo santuario, che lui stesso volle fosse elevato a Basilica Minore nel 1987. Un rapporto privilegiato, tant'è che i frati di allora raccontano che Don Tonino Bello più volte si recava a piedi in questo luogo per elevare alla Vergine Santa le preghiere e si affidava a lei ogni volta che doveva compiere un viaggio. Questo santuario mariano ha ricevuto in dono qualche anno fa dal fratello del venerabile Don Tonino una corona del rosario, ed è la corona con cui il vescovo Tonino recitò le ultime Ave Maria rivolte alla nostra mamma del cielo. E quindi in un vincolo indissolubile il vescovo Tonino si unì alla nostra mamma del cielo affidando a lei tutte le sue difficoltà e le sue sofferenze prima della morte. La mamma di Don Tonino è stata la prima testimone di fede del figlio più volte raccomandava al figlio Tonino di partecipare a messa di avere un rapporto privilegiato con l'Eucaristia e in una lettera addirittura si racconta che la mamma gli scrisse non fare come i liciucci che in dialetto salentino significa non fare come fanno gli asini per cui rafforza il tuo rapporto con Dio per andare a gonfie vele nella vita. È stata quella che poi ha accompagnato il percorso per tutta la vita di Don Tonino Bello diventando poi in qualche misura la mamma celeste Maria Santissima. Come abbiamo ascoltato Don Tonino era innamorato della Vergine Maria e lui la chiamava Maria Donna dei nostri giorni. Infatti questa espressione è diventata molto famosa perché nel 1987 ci fu il grande anno mariano indetto da Giovanni Paolo II e lui tenne una serie di meditazioni proprio su Maria che poi sono confluite in un'opera letteraria dove lui si rivolge in maniera affettuosa, vibrante potremmo dire, a Maria. Tant'è che la Vergine Santa ha accompagnato sempre Don Tonino Bello e anche negli ultimi momenti difficili della sua vita legati alla dolorosissima malattia lui volle che nella sua stanza fossero poste le immagini della Madonna proprio quelle che si veneravano nelle città che lui guidava come vescovo in modo tale che in qualsiasi lato lui potesse girarsi della sua stanza potesse vedere l'immagine della Madonna ma interessante, della Madonna così come si venera in quella città per capire che Maria è la madre di quella città, di quel popolo e lui così sentiva il cuore di quel popolo e poteva portare nel cuore della madre i desideri, i pianti, le gioie di quel popolo è bello pensare questo il vescovo ha continuato a guidare il popolo anche nel suo letto di malattia e ha portato nel cuore di Maria i desideri, le tristezze, le speranze di quel popolo grazie, grazie Don Gaetano grazie per averci aiutato a ricordare possiamo chiamarlo un santo dei nostri giorni grazie grazie a te grazie Don Gaetano noi andiamo in pubblicità rimanete con noi perché volgiamo gli occhi verso il cielo e vi faremo una sorpresa grazie a te 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 grazie a te